Buonasera e benvenuti a questa serata dedicata allo sport, buonasera pubblico di Incaro TV, buonasera al pubblico qui alla Corte del Soccorso di Castel Sismondo, un luogo che l'estate ospita tanti eventi, che questa sera ospita un dibattito televisivo e ha garanzia anche delle persone, degli appassionati che sono qui a Castel Sismondo. Grazie alla Fondazione Cassa degli Sparmi di Rimini per averci messo a disposizione questa sera questo luogo, particolarmente prezioso e sconosciuto anche se vogliamo a tanti riminesi. Il parterre è particolarmente prestigioso, gli argomenti di cui parleremo lo sono altrettanto dal punto di vista dell'importanza e quindi Roberto abbiamo un parterre, buonasera anche a te, grazie per la disponibilità di Incaro TV, vuoi presentarci questo meraviglioso parterre? Io lo lascerei presentare a te, visto che sei il vero conduttore, io andrò anche magari a sentire qualche suggerimento anche da parte del pubblico. Dico soltanto che è un onore essere qui questa sera perché è la prima volta, il presidente Zangheri, che ha una certa esperienza, me lo può confermare, che abbiamo sullo stesso palco i presidenti di Rimini Baseball, Rimini Calcio, Basket Rimini Krebs, l'assessore allo sport, il rappresentante del CONI e la grande novità per quanto riguarda la pallavolo riminese, anche se poi è all'insegna della continuità perché stiamo parlando di una fusione di società storiche anche in questo caso. La sua squadra in questo momento è in Cina e questo è molto importante e significativo perché sta portando il nome di Rimini dall'altra parte del mondo, Luciano Capicchioni, grazie per la sua presenza questa sera, presidente dei Rimini Krebs. La palla del basket è in leggero movimento, quella del baseball invece corre velocissima in questo periodo, nel pieno del campionato, Rino Zangheri, presidente del Rimini Baseball, in questo momento siamo nella fase clou della stagione, una fine settimana molto positiva, ma diciamo così ancora siamo lontani dal traguardo che qualcuno, tanti speriamo. Presidente del Rimini Calcio, Fabrizio De Meis, reduce da una stagione trionfale e da tante attese per la stagione che verrà. L'assessore allo sport è Gianluca Brasini, alle prese con gli impianti, alle prese con la gestione degli impianti, con gli investimenti e quindi anche da lui un contributo importante questa sera. Laddove tutta questa trama si incrocia è ovviamente il comitato CONI, il comitato olimpico nazionale, ha un delegato provinciale qui a Rimini, quindi grazie questa sera a Rodolfo Zavatta per essere fra noi. Poi, come diceva Roberto, la Pallavolo, un progetto importante che si chiama Riviera Volley, Rimini, e quindi un bel esempio di unione fra società storiche che hanno passato una vita a combattersi nelle palestre, che oggi invece cercano di dare vita ad un progetto ambizioso che guarda soprattutto ai giovani. Quindi diciamo che altri tanti personaggi altrettanto autorevoli avrebbero potuto essere ovviamente su questo tavolo. È un piatto che lanciamo sulla ribalta cittadina perché di sport si possa parlare, per trovare anche un momento di dialogo comune, un luogo di confronto. Ognuno fa la sua corsa, ognuno ha le sue ambizioni, ognuno ha i suoi traguardi. C'è anche competizione fra discipline, ovviamente, ma ci può essere un terreno per dialogare insieme, perché alcune cose si possono anche fare insieme. Per esempio, e parto dal presidente dei CREBS, Luciano Capicchioni, per esempio impostando un modello di gestione sportiva. Io parto da lei perché lei ha un osservatorio particolarmente importante e internazionale, un modello di organizzazione sportiva che conosce quello degli Stati Uniti, ma non solo. Il suo modello di organizzazione sportiva particolare, prima raccontava, prima della trasmissione, che in questo momento la sua squadra è in Cina, con giocatori di nove nazionalità diverse. Ecco, un modello sportivo che può essere migliorato, secondo lei parliamo dell'Italia, ma parliamo anche di Rimini. Io ho sempre visto nello sport la possibilità di essere una scuola, più che, diciamo, un gruppo che coinvolge solo quella città. Cioè Rimini mi sembra il posto giusto per fare una scuola internazionale. Infatti è quello che noi abbiamo fatto nel basket. Al di là del fatto che dalla scuola internazionale che abbiamo creato, abbiamo una foresteria, una delle migliori d'Italia, dalla scuola internazionale vengono fuori poi dei riminesi, ovvio, perché imparano, vedono e migliorano. Infatti quest'anno abbiamo dei giocatori locali che stanno venendo fuori e faranno nel futuro, ripeteranno un po' quello che fece la squadra del 72, che, diciamo, è rimasta un po' nella nostra memoria. Però la squadra del 72 era totalmente riminese. Io invece vedo una squadra di scuola riminese, cioè che da Rimini parta un messaggio all'Europa dove si impara a giocare palacanestro e a vivere nel mondo attraverso lo sport. Questo è il nostro progetto. La ringrazio, lei mi dà l'opportunità per saltare dall'altra parte del palco e andare dal presidente di Riviera Volle, Gabriele Pace, perché quella squadra fu l'esito di un investimento importante, un maestro di pallavolo come il maestro Papini, un uomo che insegnò ad insegnare, oltre che ad essere lui stesso maestro direttamente, è un po' quello che ha originato il progetto Riviera Volle, cioè l'investimento sulla qualità dell'istruzione sportiva. Sì, ci siamo resi conto che era il momento di cambiare, per quello che riguardava la pallavolo, la cultura di questo sport nel nostro territorio, poter usufruire di un bacino di ragazzi e ragazze, tra i 750 e i 800 ragazzi, sono tanti i numeri, ma però che non riuscivamo a dare loro quello che era giusto dare e quindi investire in un maestro per poter fare anche noi, come diceva prima Luciano Capicchioni, una scuola di pallavolo. Non so se è il termine giusto, ma ci stiamo arrivando, vogliamo fare un'università della pallavolo qui a Rimini che sia un modello, come ce ne sono altri in Italia, che stanno facendo molto bene, però farlo per il nostro territorio, perché anche noi quest'anno faremo venire delle ragazze, anche molto giovani, 2000-2001, un po' da tutta Italia, vengono qua perché c'è un allenatore che è un vero maestro e queste ragazze con il lavoro di insegnamento giusto faranno crescere anche tutte le altre nostre ragazze. La cosa bella è che vogliamo dare a ogni ragazza, sia quella che cercherà solo il passatempo pomeridiano, fino a quella che invece vuole fare proprio la pallavolo con tanta passione, ma con tanto impegno per poter arrivare dove le sue caratteristiche la portano. fisicamente, psicologicamente, questo è il fatto di poter essere il presidente di questa società, che nasce dalla società dove Paolo Stefanini e Maurizio Campana per oltre 45 anni hanno lavorato anche bene a Rimini, è un passo importante, per me è un grande onore, anche un vero onere perché dal punto di vista del dispendio di energie stiamo lavorando con tutti i miei soci ininterrottamente da mesi, però lo facciamo perché ci crediamo e per noi può essere la svolta per la pallavolo da Rimini. Dottor Fosavate è il delegato provinciale del CONI e che, come dicevo prima, è un po' il luogo di incontro, il luogo di riferimento di questo tessere modelli sportivi, organizzazioni, attività. Come guarda il CONI e se ci può però introdurre al ruolo che in questo momento effettivamente il CONI sta svolgendo sul territorio, c'è stata una riforma che ha alleggerito un po' la macchina organizzativa del CONI, ha penalizzato o no la presenza sul territorio e qual è la funzione in questo momento di un organismo come il vostro? Il CONI, forse tutti lo sanno, comunque lo voglio ricordare, nel 2012 con la vecchia gestione nazionale di Petrucci era stato chiuso, quindi già diciamo dalla metà del 2012 il CONI aveva smesso di lavorare, tanto il futuro era la chiusura, poi invece con l'avvento di Giovanni Malagò che giustamente secondo me ha capito che il CONI deve essere presente su tutto il territorio, non si può delegare, deve essere presente, è stato ripristinato, però dopo una chiusura ritrovare la sede, se noi siamo arrivati, siamo riusciti ad inaugurare la nuova sede in Viacovignano solo a maggio del 2014, quindi praticamente c'è stato quasi un anno e mezzo di assenza del CONI, stiamo cercando di ricucire, il CONI mette la sua sede a disposizione di tutte le società, di tutte le federazioni, già nel 2014 la nostra sala polivalente di circa 40 posti è stata sfruttata da diverse federazioni, pallavoli in primis che sono i nostri coinquilini diciamo, che ha fatto tutti i corsi per arbitri e per quant'altro, la pallacanestro idem ha sfruttato molto la nostra sala, lo stesso dicasi del comitato parolimpico che tutti i giovedì è nella nostra sede a disposizione delle società che hanno bisogno. Cosa fa il CONI per le società del territorio? Probabilmente vedendo tutti questi presidenti di queste grosse società, il CONI più di tanto non le può aiutare, però il CONI deve fare per le piccole società e quindi stiamo già preparando, abbiamo anzi già preparato il secondo, l'ultimo quadrimestre del 2015 dove stiamo preparando diversi corsi che girano per tutte le aree che interessano le società, dall'area manageriale con un corso di 20 ore per i dirigenti, l'area tecnica anche questa di 22 ore per i tecnici di primo livello, poi è importantissimo, a settembre dopo averne già fatti quattro, rifariamo degli altri corsi per il BLSD, l'uso del diffubilatore che nel 2016 diventerà obbligatore per tutte le società. Qui sono molte le società che mi fanno la domanda, ma come ci dobbiamo comportare? E qui passo la palla all'assessorato. Sì, è un po' la calamita di tanti argomenti che questa sera affronteremo. Quindi noi siamo a disposizione, dopo è fatica, io onestamente mi sono trovato di fronte alle società, non c'è quella coesione che mi sarei aspettato, però proprio come CONI, un punto che d'arrivo deve essere per noi del CONI, quello di riuscire a portare questa coesione fra le società, fra le varie federazioni. Un po' il filo rosso dei modelli che abbiamo affrontato, di cui abbiamo parlato questa sera, è l'insistenza sull'istruzione, sui giovani, sulla formazione, sulla cultura sportiva. A me ha colpito, tra oggi e ieri, il presidente Fabrizio De Meis, da uomo di comunicazione e di spettacolo, usa ovviamente i social network per la comunicazione in maniera professionale, e il suo profilo Facebook ha modificato lo sfondo della sua presentazione. Inutile tornare su argomenti che sono di attualità, non è questa la serata, però l'aver messo intorno al suo volto i bambini del settore giovanile della Rimini Calcio a me è parso come un volere trovare un luogo di serenità, un luogo di conforto e di soddisfazione in un momento che obiettivamente non è facile. Innanzitutto buonasera, è un piacere essere qui in occasione di questa serata dedicata allo sport di Rimini, con tutti gli esponenti di sport importanti come il calcio, perché secondo me lo sport sotto forma di formazione, poi soprattutto per tutto quello che riguarda le attività di giovanile, non può essere differenziato per importanza, ma alla fine è una forma per poter far crescere i ragazzi. Sì, sono stati giorni e sono giorni molto tristi, e sicuramente un po' l'idea di rifugiarmi un po' nella nostra scuola calcio, nel settore giovanile, sicuramente ti riconduce a quelli che magari a quell'età sono ancora dei valori totalmente innocenti, dei ragazzi che vengono proprio per tirare il calcio a due palloni, nell'innocenza che comunque hanno a quell'età lì, e quindi era proprio un voler rifugiarsi in quel luogo di pace e di innocenza. Sulla qualità dell'istruzione, voi avete anche come rimini calcio parecchio insistito, non è tanto, a parte aver puntato su personaggi come Valter Sapucci e la qualità della sua professionalità, ma anche l'avere organizzato durante l'anno degli appuntamenti con anche tecnici internazionali per portare un messaggio nuovo, ecco, un modo magari nuovo e più moderno di trasferire la conoscenza, il sapere sportivo ai più giovani, per provare ad allargare gli orizzonti, anche su questo avete insistito. Sì, come dici tu, abbiamo insistito su questo e abbiamo insistito anche molto sul concetto di continuità del settore giovanile poi nella prima squadra, quindi cominciamo con i più piccoli, alcuni sono davvero piccoli, hanno 4-5 anni che fanno i primi calci, poi in un settore giovanile in cui crescono e poi in una mentalità dove ogni anno noi portiamo dei ragazzi del settore giovanile, in ritiro con la prima squadra, lo scorso anno è stata l'occasione per Dini e Berardi che sono stati aggregati alla prima squadra e poi sono stati i protagonisti in campo di un grandissimo campionato per loro e chiaramente per i primi. Quest'anno abbiamo portato altri due ragazzi, un ragazzo del 96 e un ragazzo del 98 che sono figli del nostro settore giovanile che si chiamano Gambini e Sapucci e quindi poi proprio dobbiamo sapere inculcare ai nostri giovani che se riescono a lavorare bene hanno l'opportunità poi di arrivare al calcio per fortuna di nuovo professionistico che non avevamo più lo scorso anno e quindi insomma questo è un aspetto su cui abbiamo lavorato e lavoreremo molto. Ognuna di queste società ha attraversato momenti più o meno esaltanti, più o meno vantaggiosi, il segreto di tante società sportive è la continuità e sicuramente qui davanti a me c'è un esempio di continuità, la possibilità quindi di portare avanti con uno stile, con un'organizzazione, con tanta ambizione, una conduzione societaria. Mi permetta Presidente Zangri di riportarle quello che è una voce, io sono abitudinario dello stadio dei Pirati tutte le settimane e qualcuno dice il baseball è legato a questa persona, finché c'è lui ci sarà il baseball, quando non ci sarà lui non ci sarà il baseball. Vogliamo dire che invece intorno a Zangri sono cresciute persone, sono cresciuti i tecnici, sono cresciute persone che anche con società vicine alla Rimini Baseball collegate, comunque che stanno facendo bene e possiamo dire che l'eredità di Zangri che avverrà fra cent'anni è assicurata. Siccome prima abbiamo parlato di giovani, vorrei fare un accenno anch'io ai nostri giovani, perché noi abbiamo oltre alla prima squadra che è preseduta da me, abbiamo anche il settore giovanile con due settori, fino ai 16 anni e dai 16 in avanti, sono due presidenti indipendenti, due settori nostri, sono Francesco Zucconi e Tiziano Pellegrini, mentre io guardo la prima squadra, la prima squadra è l'oltre, forse hai detto una parola giusta, l'ambizione, l'ambizione di vincere io ce l'ho veramente, perché tutti gli anni o vinciamo o non vinciamo, siamo sempre lassù, lassù in alto, sempre al vertice del nostro campionato, siamo al vertice del nostro campionato, ci sono molte squadre che sono veramente forti sul serio, abbiamo vinto noi 11 scudetti, siamo arrivati a 7-8 volte al secondo, io penso che abbiamo ottenuto dei risultati veramente eclatanti, andiamo avanti, adesso siamo nei play-off, siamo nei play-off, cerchiamo di fare anche quest'anno la finale, a me mi interessa fare la finale del campionato, perché la finale la palla è tonda, la palla è tonda, c'è la fortuna, c'è la sfortuna, capitano di tutti i colori, ah vorrei dire una cosa, vorrei dire una cosa, questa sera ho incontrato qui l'amico Capicchioni che ci eravamo persi, noi siamo il baseball, la Rimini l'abbiamo fatto insieme, siamo partiti insieme, lui è stato noi, lui è stato quello che ci ha portato Mike Romano, quello che ha portato altri giocatori, questa sera l'ho visto qua e mi ha fatto veramente piacere, noi andiamo avanti, adesso stiamo nei play-off, cerchiamo di, finora è andata bene, siamo le prime due squadre che arrivano in questo momento, siamo Bologna e Rimini, se andiamo avanti di questo passo sicuramente faremo la finale. Io ci credo poco che lei dice mi interessa solo la finale, sono sincero, sì, mi interessa solo la finale, non vincerla, sì, prima si vuole arrivare, no, incrociamo le dita, perché come ho detto prima, sono due squadre che vogliono vincere, molto probabilmente io penso che saremo noi e il Bologna, molto probabilmente, e Dio ce la mandi buono, vedrà che sarà, sarà sicuramente, già lo è stato, sin qui un anno da protagonista. Assessore Brasile, il suo è un osservatorio privilegiato, ha a che fare con lo sport di vertice, con i presidenti vulcanici, quelli meno vulcanici, ma ha a che fare con una base di praticanti piuttosto importante, con l'osservatorio suo per, come dire, trarare la temperatura dello sport rimese in questo momento, la porta subito anche su un argomento caldo, che è quello dell'impiantistica, lei non ha mai nascosto il fatto di aver ereditato una situazione complicata, che da rimontare era difficile anche negli scenari economici che sono in questo momento a livello generale per le amministrazioni e quindi la prima è la fotografia dal suo punto di vista del panorama sportivo. La seconda è a che punto siamo con questa rimonta, pur in condizioni difficili. Buonasera a tutti, grazie per l'osservatorio privilegiato, perché penso sia l'unica cosa privilegiata nel fare questo lavoro che si possa avere, perché mi fa piacere questa sera che ci sono i vertici dei principali sport riminesi, perché in realtà non è che capita molto spesso che ci troviamo tutti insieme a parlare sia di sport che soprattutto anche di impiantistica, perché tanto poi quello che è un'amministrazione comunale deve provare a, come hai detto tu, a ricostruire, a rimettere in piedi è quello fondamentalmente. Lo sport come sta? Gli anni, diciamo dagli anni 90 fino a parte degli anni 2000, Rimini ha vissuto lo sport di vertice, chiaramente se escludiamo il baseball che con la presidenza di Zangheri ha ormai attraversato un quarantennio quasi di sport riminese, sempre ai vertici. Gli sport diciamo come il basket o come il calcio hanno sempre vissuto magari periodi di presidenza, di dirigenza e di interesse della città molto forti che quindi hanno portato anche ottimi risultati in periodi di caduta. Che fase è questa? Secondo me questa è una bella fase di ricostruzione anche nello sport di vertice, perché il basket dopo la discesa negli inferi della B2 e dei Krabs oggi sta trovando una dirigenza seria e credo anche che con i nuovi sponsor che sono entrati si possano avere delle prospettive molto positive anche per la prima squadra. Rimanendo sempre comunque il basket a Rimini uno sport che attira tantissimo soprattutto nei settori giovanili, abbiamo avuto il problema che non è stato secondario, che quando i Krabs di fatto si sono quasi liquefatti nel 2011, fortunatamente almeno una parte del settore giovanile è stato comunque salvaguardato dalle altre società riminesi. Questo però non è stato un bene perché oggi ci troviamo i settori giovanili del basket che sono molto frazionati, quindi sarebbe bello e Luciano lo sa che il basket ritrovasse una sintesi anche alla base, perché la grande forte da Rimini è sempre stato quello di aver prodotto i campioni che nascevano dal settore giovanile e poi venivano inseriti nella prima squadra. Oggi questa comunicazione, questo smosi c'è meno chiaramente, però c'è una fase bella di rinascita e di ricostruzione che chiaramente è appena iniziata e quindi credo che le prospettive sono buone. Il calcio, abbiamo qui Fabrizio De Meis, abbiamo cercato come amministrazione insieme di mettere in piedi due cose fondamentalmente. Abbiamo cercato di coinvolgere pezzi di città che hanno sempre avuto poca attenzione per lo sport e su questo devo dire che i risultati non sono stati buoni, di solito sono molto sincero. Un certo disinteresse, una certa poca attenzione a quelli che possono essere gli obiettivi di una società che si sta riprendendo, che in questo momento se non viene puntellato, con l'aiuto anche, questo è un adagio mai che va avanti da anni, ma se noi non la puntelliamo, questo tipo di progetto non va avanti. L'altra cosa è la cosa dell'impiantistica sportiva, qui allargherei un attimo il campo un po' a tutta l'impiantistica, come diceva Cesare, scegliere le priorità a Rimini, scegliere quello che bisognava fare dal 2011 quando ci siamo insediati non era tanto difficile, non era niente, non abbiamo a Rimini una piscina comunale, abbiamo il campo di gioco del Romeo Neri che è del 1961, non abbiamo la pista d'atletica, abbiamo le palestre comunali per il basket e per il volley, avevamo che in parte erano in condizioni di manutenzione assolutamente pessima, non lo dico per mettere uno spartiacque tra noi, chi c'era prima, non è questo il tema, Rimini ha investito su tante cose, l'impiantistica sportiva non dico una cosa, una mostruosità se dico che c'è sempre stato un certo disinteresse. In un momento come questo si è cercato di iniziare dagli impianti principali, quindi ad agosto parte il bando per l'assegnazione dei lavori della nuova piscina comunale, oggi sono finalmente iniziati i lavori anche del campo a Romeo Neri, sperando di completarlo anche con i lavori, gli spogliatoi e le prefatture accessorie che sono veramente in uno stato di grado obsolescente. Si rifà la pista d'atletica, si è fatta la casa del basket, questi sono tutti interventi che prima non c'erano e adesso ci saranno. Che dire, è stato anche semplice scegliere quelle che erano le priorità, perché veramente noi avevamo tanti buchi neri in città, continuiamo ad averli e quindi penso che qualunque assessore si fosse trovato al mio posto avrebbe scelto di fare quella roba lì. Chiaramente l'assessorato allo sport dal 2011 è stato accorpato all'assessorato al bilancio, quindi forse qualche vantaggio in più e qualche attenzione in più sull'impiantistica sportiva c'è stata, ma se non altro perché c'era un presidio anche sulle risorse economiche, senza risorse economiche purtroppo non possiamo andare da nessuna parte. Quindi brevemente ho cercato di fare il sunto di questi 4 anni, l'ho fatto male, ma ho provato comunque. Ci sarà un'altra occasione su questo, ritorno subito dal Presidente De Meis che in tante sue dichiarazioni ha posto per esempio un'attenzione sulla gestione dell'impianto di riferimento, l'impianto sportivo di riferimento come un elemento di programmazione importante per guardare anche dal punto di vista societario in avanti con un certo ottimismo. È ancora di quell'idea? A che punto è questo processo che la porta verso questa opportunità? Il processo di intenti che abbiamo sempre manifestato in maniera reciproca sia da parte nostra che da parte del Comune è sempre stato quello di utilizzare il campo dello stadio con una frequenza che non fosse quella di una partita ogni due settimane. Effettivamente abbiamo avuto la bella notizia che l'amministrazione aveva preso la decisione di rifare il campo dopo 54 anni, oggi per fortuna sono iniziati i lavori e quindi per questo aspetto siamo contenti. Poi spero e penso che presto si discuteranno poi le condizioni di un affidamento, di una gestione di quello che sarà. L'aspetto che più mi preoccupa invece, faccio così un passaggio globale che secondo me coinvolge tutti, è il fatto secondo me che in questo momento c'è una mancanza, un vuoto culturale legato allo sport cittadino. Secondo me è un vuoto grande dove un po' tutti abbiamo secondo me delle responsabilità. Noi che facciamo sport dovremmo forse far trasparire meglio alla politica, agli imprenditori quanto vogliamo che ci sia partecipazione, perché credo ognuno di noi che fa sport, credo che ci siano due aspetti che accomunano tutti quanti, il fatto che tutte queste società rappresentano comunque la città di Rimini e il fatto che lo sport è è un patrimonio di tutti, è un patrimonio della città, è un patrimonio dei tifosi, è un patrimonio per chi fa sport e credo che in questo senso dovrebbe partire veramente una volontà forte di cambiare le cose. Il comune di Rimini, il sindaco, tutto il suo team di lavoro ha dimostrato secondo me un'eccellenza assoluta, perché negli ultimi anni ha raggiunto risultati straordinari sotto tanti punti di vista, i lavori pubblici, le manifestazioni, l'arte, i tanti eventi che secondo me hanno riportato Rimini a un'attenzione non solo nazionale ma anche internazionale. Io credo che se tutti insieme, perché non è che possiamo chiedere all'amministrazione che ha da occuparsi tante cose importanti come lo sport e anche più importanti dello sport, ma tutti insieme, noi che facciamo sport in prima linea, la politica, di far capire che veramente ci deve essere un coinvolgimento di tutti che deve essere proprio parte di quello che è un aspetto fondamentale, che è quello dello sviluppo dello sport cittadino, perché Rimini è una città conosciuta in tutto il mondo, sono un po' invidioso che i ragazzi del mio collega del basket siano in Cina, ma che a noi ci piacerebbe riportare il calcio a livello internazionale, poter uscire fuori da certi parametri, però in questo momento c'è bisogno secondo me di un forte cambio culturale. Io cito un esempio nei colloqui che ho avuto con alcuni imprenditori locali per appoggiare il progetto della Rimini calcio, mi è capitato uno che mi è rimasto molto impresso, credo che sia tra le 3-4 industrie più importanti di Rimini. Mentre parlavo con lui, con questa persona, mi ha detto guarda noi per una questione di politica interna non appoggiamo lo sport. Io sono sincero, stavo in silenzio 30-40 secondi e poi sono stato zitto, ho lasciato l'argomento e ho lasciato perdere. Poi in un altro appuntamento ho parlato con un altro imprenditore che mi ha detto guarda dobbiamo decidere perché abbiamo 5 mila Euro di budget se investirli nello sport oppure nella notte rosa, come se una cosa escludesse l'altra. Quindi rispetto a questo credo che manchi proprio una vera e propria volontà da parte di tutti, da parte delle istituzioni, da parte di chi fa lo sport con noi in prima linea, da parte degli imprenditori per dare proprio una svolta e cercare di dare risorse a tutti gli sport. Io sono il presidente della scuola di calcio maschile ma mi sento molto spesso con il presidente del calcio femminile e con il presidente del calcio a 5 e magari in una chiacchierata col presidente del calcio femminile mi sento dire sai noi non sappiamo se abbiamo i fondi per fare tutta la stagione e non riusciamo a trovare uno sponsor che ci aiuta. Quindi rispetto a questa cosa veramente io mi auguro che ci sia un momento in cui tra i tanti impegni che ci sono si prenda un po' il toro per le corna e si faccia veramente un'opera di persuasione per avvicinare gli imprenditori allo sport e per dare l'opportunità a una città come Rimini, come ho detto prima conosciuto in tutto il mondo, di essere lo lustro in ogni sport e di lottare per traguanti ambiziosi. Perché poi ricevere il contributo da parte di tutti permette poi di aumentare quello che è la capacità di raggiungere grandi risultati, a parte il baseball che lui ha l'obiettivo della finale e probabilmente anche di vincere, sta tanto avanti a noi, noi siamo tanto indietro, tanto abbiamo vinto questo campionato, siamo molto contenti, però sicuramente se ci fosse una città vicino a noi, come purtroppo devo dire a Cato è qui vicino a vicino, secondo me una piazza come Rimini potrebbe fare tanto di più e potrebbe stare anche su categorie più alte. Grazie Presidente, resto sul tema e sugli impianti di nuovo con l'assessore perché è di pochi giorni fa la notizia di un finanziamento agevolato grazie al credito sportivo che ha zerato con questo progetto di finanziamento gli interessi sugli investimenti di ristrutturazione di due campi da calcio, un'opportunità che ha riguardato due impianti ma che potenzialmente avrebbe potuto interessare tanti più impianti anche del nostro territorio perché credo che il bando fosse per 500 progetti o qualcosa del genere da parte del credito sportivo, questo lo dico per dire può esserci una partnership pubblico privato che veda l'investimento a questi costi particolarmente vantaggiosi perché avere un finanziamento a 10 anni di 150 mila Euro a tasso zero può far gola all'amministrazione e all'imprenditore magari insieme. Sì, il numero di progetti di cui parlavi sono progetti a livello nazionale che il credito sportivo ha finanziato, noi siamo riusciti addirittura a infilarne due, ne avremmo avuto uno come progetto finanziabile. È chiaro che noi ci stiamo muovendo su tutti i fronti, a parte dell'impiantistica sportiva, cito soltanto un esempio, il risanamento fognario a Rimini sono 154 milioni di Euro di investimenti, siamo già riusciti a circa reperire un terzo, Rimini come sapete ha un piccolissimo problema di sistema fognario per cui certi giorni all'anno non si fa il bagno, se non si fa il bagno la nostra industria turistica muore. È chiaro che quello che noi abbiamo appurato negli ultimi anni è che è molto difficile per un privato investire in un impianto sportivo di proprietà. Si possono mettere in campo delle forme di gestione esternalizzate come c'è già nel baseball, come stiamo facendo per il calcio. Il problema vero sta nei numeri. Vi cito l'esempio di Rimini. Rimini ha 75 impianti sportivi comunali. Ogni anno questi 75 impianti sportivi costano alla fiscalità generale, quindi all'amministrazione comunale, circa 3 milioni e 300 mila Euro di gestione ordinaria, quindi di manutenzione, di custodia, di utenze, di tutti i costi che ogni anno afferiscono ognuno di questi impianti, esclusi gli investimenti, quindi gli investimenti straordinari come per esempio il rifacimento del campo alla calcio o la realizzazione del nuovo impianto del nuoto. Gli incassi che derivano da questi 3 milioni e 3 investiti sull'impiantistica sportiva sono circa 300 mila Euro. Ciò significa che il mercato, inteso come utenza, come sostanza sportiva, ma anche come percento del costo di gestione degli impianti. Ci sono casi a Rimini, io cito sempre una bellissima realtà che è la polisportiva Stella. La polisportiva Stella è una delle poche persone sportive a Rimini che ha un impianto di proprietà, ha i campi in erba sintetica, ha la palestra. La polisportiva Stella che ha una palestra dove si gioca basket e pallavolo che è completamente ammortizzata, nel senso che i costi sono già stati ormai ammortizzati, ha una tale difficoltà della gestione economica della palestra che molto spesso conviene alla polisportiva Stella utilizzare i nostri palestri comunali. Questo per dire cosa? Per dire che in questo momento io credo che se non investe il pubblico in maniera consistente sull'impiantistica sportiva è molto difficile trovare imprenditori che possono farsi carico di grandi investimenti in uno sport, parlo di impiantistica adesso. Ma basta guardare i casi di eccellenza in Italia, le condizioni di mercato che hanno fatto sì che per esempio ci siano in Italia stadi di calcio di proprietà della società di calcio si contano sull'elita di una mano, lo Juventus Stadium, adesso c'è il progetto della Roma e del Milan. Ma parliamo di società che hanno dai 40 ai 60 mila abbonati, che hanno un bacino di pay tv che è enorme, che quindi hanno dei ritorni economici, come possiamo pensare noi che arrivi un cavaliere bianco, noi lo citiamo sempre, un demes di turno che ti rifà uno stadio? Io dico stiamo vicini ai nostri presidenti e diamogli una mano anche nella gestione corrente, lasciamo in questo momento, non ci sono le condizioni affinché un imprenditore arrivi, ti rifà lo stadio, ti rifà il palazzetto, ti rifà la palestra. Finisco dicendo che non ci sono neanche più le contropartite, fino a qualche anno fa c'erano contropartite di natura immobiliare che potevano anche scatenare appetiti di imprenditori che magari rifacevano un impianto sportivo e poi magari a fronte dell'impianto sportivo attraverso il motore immobiliare rimuneravano l'investimento sull'impianto sportivo attraverso la vendita dell'immobiliare. Chiaro che adesso questo sistema qui non sta più in piedi, per cui noi anche all'orizzonte non abbiamo dei soggetti che hanno forti capacità di investimento su quel settore affinché ci facciano poi gli impianti sportivi. Lo dico perché è questa la realtà, per cui tutto quello che riusciamo a fare in questo momento lo dobbiamo fare principalmente con risorse pubbliche e non è semplice perché chiaramente questo è il momento peggiore per la finanza locale, è il momento più difficile, il patto di stabilità, le risorse che vanno calando, però credo che Rimini almeno un segnale lo abbia iniziato a dare nel momento più difficile per quanto riguarda le risorse pubbliche. Roberto ti ho visto particolarmente attento a questi discorsi e mi affido al tuo feeling sportivo, giornalistico con Luciano Capicchioni perché sono convinto che su questi argomenti ha molto da dirci. Sicuramente, di fatti volevo prendere spunto da due riflessioni, la prima del Presidente del Rimini Fabrizio De Meis relativamente proprio alla cultura sportiva, sai un mio pallino non vecchio ma è un pallino che probabilmente mi porterò fino alla tomba perché sono completamente d'accordo, Rimini manca quasi totalmente la cultura sportiva, questo giustamente si ripercuote anche a livello economico sulle società, Luciano Capicchioni lo sa bene perché per tanti anni con il basket Rimini Krebs si è battuto per cercare il coinvolgimento anche di altri sponsor, non è quasi mai stato possibile, lo dico adesso che finalmente tornerà l'anno prossimo sulle canotte uno sponsor, un main sponsor e tra l'altro ci sarà anche, ne approfitto anche per dirlo, per ricordare, che ci sarà anche uno sponsor etico, l'associazione comunità Papa Giovanni XXIII e sarà la prima volta per una società riminese, ricordo c'è la Fia Riccione nelle vicinanze però non è così facile, così semplice avere uno sponsor etico sulle maglie per il nostro territorio, forse anche per il motivo legato alla cultura. L'altro spunto invece me l'ha dato in precedenza l'assessore Brasini, so che periodicamente tra società di basket del territorio vi parlate, si riuscirà mai ad arrivare a questa benedetta unione anche dei settori giovanili o maggiore collaborazioni? Inizio dalla seconda parte, è molto difficile perché abbiamo creato una situazione quando si arrivò alla liquidazione della società Rimini, praticamente il Rimini Basket non aveva i soldi per pagare le palestre, quindi quel problema creò un danno notevole perché praticamente il Rimini Basket divenne ultimo in graduatoria e si prese le briciole delle palestre, in quanto non pagando quello che doveva pagare il Comune si aprì una concorrenza per queste palestre tra varie società riminesi che appunto hanno danneggiato il basket in maniera direi abbastanza devastante perché oggigiorno ci troviamo vicini un'altra squadra in serie B ma non ha senso, praticamente non ci sono neanche i fondi per queste cose qui o i finanziamenti per due squadre nell'arco di 30-40 chilometri, addirittura io vedrei un'idea, io l'avevo proposta anni fa al calcio di fare una polisportiva, tutti questi presidenti se si mettessero insieme e facessero una polisportiva forse faremmo di più perché è un po' quello che fanno poi negli altri paesi, al di là dell'Italia perché se noi usciamo dall'Italia voi vedrete che sono tutte polisportive, polisportive si mettono insieme, fanno un marketing insieme, si propongono insieme alla città e ognuno fa il suo sport, però vedete anche fuori il football club barcelona, Galatasaray, Munchen, Real Madrid, tutti, tutti all'estero sono polisportive, fanno baseball, fanno basket, fanno calcio, questa è un'idea che però in Italia non esiste proprio e non è stata neanche mai avvicinata da nessuno e per me è una cosa molto importante perché se mettiamo questi cinque presidenti, quanti siamo non so, insieme a un tavolo, vedere e poi con un ufficio marketing che lavora insieme, poi ci dividiamo, quelle che sono i vari sponsor in maniera corretta, non potrà più dire uno se do a te uno sponsor lo devo dare anche al calcio, dallo sport, punto, e poi ce lo dividiamo in maniera, in base a quelle che sono le realtà anche dei nostri giovani che abbiamo, in maniera corretta penso e in maniera sportiva si potrebbe arrivare a questo. La prima domanda qual era? La prima era quella legata alla cultura sportiva e anche proprio alla ricerca di sponsor, in parte c'è la risposta anche... Sì, no, la ricerca di sponsor è abbastanza difficile proprio per questo motivo. Qui non abbiamo, poi cioè ricordiamoci che siamo in un'epoca di crisi dove poi anche se c'è qualcuno che ha veramente dei finanziamenti evita se può di darli perché in fondo con la scusa che c'è la crisi non dà niente. È anche una buona scusa oggigiorno. Noi fortunatamente dopo anni di Krebs solo sulla maglia siamo riusciti, anzi addirittura la cosa interessante è che l'NTS e il signor Ranocchi si hanno chiamato loro, che non è normale, praticamente uno sponsor che chiama noi e comincia a fare una trattativa. Quindi è un buon segnale penso per lo sport, vuol dire che abbiamo seminato bene, vuol dire che abbiamo riavvicinato dei personaggi che sono molto importanti. Voi sapete che loro, questo gruppo NTS una volta era Team System che fece molto nella palacanestro italiana. Quindi spero che sia un segnale questo qui per tutti noi, per tutti gli sport, che certi riminesi incominciano a credere in noi, però la cosa importante è che i presidenti che sono qui presenti non si vedono solo questa sera qui e ogni 40 anni, poi tra 40 anni non ci siano neanche più. Bene che magari ogni tanto ci vedessimo per analizzare insieme i problemi che poi sono di tutti e vedere se possiamo trovare delle soluzioni insieme e anche fare delle cose insieme. Noi nel proporre questa serata al pubblico e ai telespettatori abbiamo detto proviamo a passare da un aggregato di tesserati, tanti il basket, tanti il baseball ed altri, provare a costruire qualche, mettere qualche mattone per costruire una comunità sportiva del territorio, un'alleanza sportiva che aiuti a moltiplicare la cultura e la passione per queste discipline. Riviera Volli, io ricordo su questo palco qualche settimana fa uno spettacolo meraviglioso di Andrea Zorzi dedicato alla pallavolo che al di là delle discipline, al di là della quotidianità si possono fare cose e credo che come Riviera Volli questo abbiate in cantiere anche proprio per seminare cultura sportiva. Sì, è una cosa che stiamo cercando di fare molto bene perché secondo noi se non cambiamo la cultura sportiva non riusciamo ad arrivare a quello che vogliamo arrivare, se no perdiamo solo del tempo. Anche il discorso che Fabrizio De Meis diceva prima di un sponsor importante che ha risposto a noi non investiamo nello sport, a me è capitato di sentirmi dire sempre da un imprenditore di Rimini, ma se li do a voi, poi dopo il calcio e il basket, quindi a volte c'è questa sensazione che si nascondano dietro delle scuse, forse giuste, ma anche per non sentirsi impegnati. Invece c'è tanta gente che potrebbe ancora impegnarsi e dare una mano a tutte le nostre società. Noi cerchiamo di tirare fuori questi valori, anche questo spettacolo con Andrea Zorbi io non l'avevo mai visto e mi sono approcciato con molta curiosità e ci ha dato veramente tanto perché ci ha trasmesso quello che è di fatto la crescita dello sportivo dall'adolescenza fino all'alto professionismo. Cercheremo di andare avanti con questi eventi e cercare di promuovere lo sport a tutti i livelli, lo sport non tanto la fa lavoro quanto proprio la cultura dello sport. Da Presidente storico ascoltare questi discorsi, vediamoci più spesso, proviamo ad allearci, proviamo a lavorare insieme. Presidente Zangheri, lei che reazione ha dal lato della sua lunghissima esperienza? Ricordo 43 anni di Presidenza, dico bene, mi ricordava Roberto. 43, prossimo. Riguardo a questo, riguardo a mia lunga permanenza nello sport, devo dire una cosa, che l'abbiamo provata di tutto, tutto quello che ho sentito stasera, l'abbiamo provato sui fatti tante tante volte. Si parla degli imprenditori, l'imprenditore non ne frega niente, prima hai parlato del pubblico, è il pubblico che deve fare gli impianti, è il pubblico che deve fare gli impianti. Non mi puoi dire che incassate 300 mila, avete le tasse che tutta l'Italia paga, è lo Stato che vi dà dei soldi, investiteli, noi non chiediamo mai niente, non abbiamo mai chiesto niente, non abbiamo mai chiesto quasi niente, sono anni e anni che cerchiamo di arrangiarci adesso. Lo stiamo facendo, però revisionare le nostre strutture sarebbe ora, fare una revisione generale. Comunque quella di Capicchiori non è una brutta idea di fare una polisportiva, esserci tutti dentro, ma veramente dentro. Ognuno che deve guardare solo il suo orticello, perché noi abbiamo provato altre volte, ognuno però guarda il suo orticello e se ne frega degli altri. Non lo so, cerchiamo di andare avanti, adesso bisogna tenere presente che siamo in un momento di crisi, di crisi economica generale e anche dai nostri imprenditori, della nostra gente non possiamo pretendere niente. Quindi lei la palla al pubblico, torna dalla Sessore Brasini, perché ovviamente è chiamato in causa, è giusto che risponda, ma aggiungo una cosa. Questa alleanza sportiva, che non è facile, anzi complicatissima, ma che sugli interessi può trovare un piano di dialogo, può costruire questa comunità sportiva che insieme all'amministrazione può essere incidente nella società, negli imprenditori, coloro che riconoscono questi valori e possono dare una mano? Ma c'è poco da fare, io non voglio essere pessimista, però i valori che una famiglia riesce a trasmettere al proprio figlio che fa sport sono gli stessi valori e lo stesso impegno che la stessa famiglia in base alle proprie capacità anche di reddito, di investimento deve promuovere verso quella società sportiva dove il figlio va a fare sport, io la vedo così, nel senso che c'è come uno scollamento per cui il mondo dello sport deve essere un mondo a sé stante, dove ci sono gli imprenditori, dove ci sono gli sponsor, il resto viene tutto così, non è così, bisognerebbe che dalla famiglia, dai genitori, da chiunque possa in qualche modo essere coinvolto anche perché molte volte nelle società sportive, noi adesso qui è rappresentato il vertice di Rimini, ma nelle centinaia di società sportive che ci sono molte volte il supporto di cui c'è bisogno è un supporto anche a livello logistico, di aiuto, di capacità di organizzare una trasferta, di dare una mano a allenare i bambini, molte volte dalla famiglia bisognerebbe ripartire, qui a Rimini tanto c'è un sistema economico imprenditoriale che ha fatto la fortuna di tanti, ma è un sistema che ha fatto le sue fortune su determinati settori economici e imprenditoriali che non si sposano, non si sa perché con lo sport, perché qui il sistema turistico, ricettivo, alberghiero è un sistema che per 3-4 mesi all'anno si dimentica, questa è la realtà, si dimentica che c'è una città che vive anche d'inverno, che c'è lo sport, abbiamo un esempio che è il Presidente a Rimini Calcio che lavora nel settore dello spettacolo, nel settore delle discoteche eppure investe nello sport, per cui bisognerebbe proprio riconvertire la mentalità del nostro sistema economico a livello locale, ma questo è molto difficile perché quando sono tanti anni dove lo sport viene retto sempre più o meno dagli stessi soggetti che civicamente si immolano per far sì che lo sport di vertice a Rimini stia in piedi, io credo che essere un po' pessimisti sia una cosa normale, bisognerebbe ripartire innanzitutto dalla base coinvolgendo le famiglie, coinvolgendo i genitori, poi cosa bisogna fare? Io sono d'accordo Zangheri, ma in questo momento una mano a livello di risorse non te la dà nessuno, il Comune di Rimini oggi, se andiamo a vedere i bilanci e il trasferimento di risorse che c'è tra Comune e Stato, il Comune di Rimini oggi si trova a finanziare lo Stato con l'Imu, quando si dice usate i soldi che vi gira lo Stato, oggi sono più i soldi che il Comune di Rimini dà allo Stato che i soldi che ne riceve dallo Stato. Questo non è per dire che non mi piace mettere davanti le risorse a temi fondamentali come l'impiantistica sportiva, ma nonostante questo adesso qualcosa credo si stia muovendo e noi quello dobbiamo fare, quello dobbiamo promuovere. Poi è chiaro che abbiamo un patrimonio di impiantistica che è obsoleto, quasi tutto, a parte qualche raro caso di eccellenza, abbiamo un patrimonio di impiantistica sportiva dove bisognerebbe intervenire almeno sul 90% degli impianti, abbiamo risorse limitate, si interviene dove si può, si interviene gradualmente, chiaro che dopo ci sono qualcuno che è anche scontento perché come fai? Chiaramente c'è sempre qualcuno che dice potevi farlo anche da me, sì lo so, ci arriveremo, mi viene da dire, ci arriveremo, però io credo che un segnale importante e non di impegno, di promesse, ma di fatti anche nell'impiantistica sportiva credo che si stia iniziando a vedere. Mi affido all'imprenditore in questo caso che è abituato a non guardare a stasera, a domani, ma a guardare a dopo domani e fra qualche mese. In questo panorama ci sono le condizioni, secondo Fabrizio De Meis, di guardare avanti programmando una crescita? Ma guarda, ci sono state dette tutte cose, secondo me, cose abbastanza giuste negli interventi che hanno fatto un po' tutti quanti, però credo che in questo momento noi stiamo guardando una piccola parte e non guardiamo poi invece l'aspetto generale, cioè fondamentalmente tutti i discorsi che abbiamo fatto vivono su un'ipocrisia di fondo. Il punto è, io partirei dall'alto, Rimini, la città di Rimini, cosa vuole dallo sport? Quali sono gli obiettivi per una città come Rimini, leader nel mondo in tantissimi aspetti, cosa vuole dallo sport? Io sento parlare di crisi, la crisi è ipocrisia, non crisi, ci sono aziende che fatturano, tante aziende che fatturano più di 100 milioni di Euro l'anno, non parliamo di crisi, perché la crisi la vive la famiglia, la crisi la vive la famiglia che deve pagare la scuola calcio 300 Euro l'anno per un bambino che a noi ci costa molto di più di 300 Euro l'anno e hanno difficoltà a pagarteli, lì è la crisi quella vera. Se noi dobbiamo pensare che la città di Rimini oggi è in crisi o è che esiste la crisi, parliamo di concetti che personalmente non condivido. Un'unghia permetterebbe a tutto lo sport di raggiungere risultati straordinari e probabilmente anche di avere un contributo diretto sulle impiantistiche. È chiaro che questo è evidente, che la situazione delle impiantistiche, come ha detto l'assessore Brasini è una situazione disastrosa, basta guardare a quanto loro si stanno adoperando per migliorare l'impiantistica, però poi c'è un punto che secondo me è fondamentale, i lavori che facciamo all'impiantistica sono una risposta che noi diamo ai malumori di qualcuno, come ha detto giustamente l'assessore Brasini, faccio lo stadio, do il campo a Rimini e poi c'è qualcuno che si lamenta, allora lì c'è bisogno di capire che non siamo tutti uguali, ci sono delle società che hanno centinaia di giovani, realtà importanti, che hanno bisogno di un sostegno. L'idea di Luciano, come ha detto lui, è quello che fanno all'estero, è tutto perfetto. Con questi scenari tolti miracoli, autentici miracoli economici, autentici miracoli sportivi, non credo che si possa andare lontano, io faccio riferimento sulla mia brevissima esperienza, non un'esperienza lunga come la loro, io ho avuto difficoltà a iscrivere i Rimini al campionato, ma le difficoltà non sono state economiche, perché noi per iscriverci al campionato abbiamo bisogno di una fiduzione bancaria di 400 mila Euro che eravamo pronti a garantire con 400 mila Euro di soldi. Abbiamo fatto il giro col piattino delle banche di Rimini e a parte colgo l'occasione per ringraziare il credito di Romagna che era totalmente distante, quasi capitato casualmente nelle richieste da fare, non ci ha allungato una mano nessuno. L'imprenditoria non è un'imprenditoria in crisi, è un'imprenditoria distante. Io continuo a credere fermamente che ci siano veramente delle qualità eccellenti in questa amministrazione e sono convinto che se da parte dell'amministrazione c'è una vera volontà di alzare il livello dello sport cittadino, le risorse che si possono trovare sono tantissime, sono enormi. Bisogna vedere se è questo quello che si vuole, perché altrimenti ci affideremo ai miracoli estemporani di tutti quanti e poi finisco, scusate se mi sono dilongato, con un aspetto importante. Si parla di risorse da dedicare allo sport come una forma dell'emosina. Ogni volta che magari, per dire, il Presidente De Meis dice ci sarebbe bisogno dell'intervento degli imprenditori perché così è dura. Il primo commento è con lì già col piattino e partita l'emosina. Invece non è così. Il punto è un altro. Siccome non è la squadra di Rimini, non è di De Meis. La squadra di Rimini è della città di Rimini, è un patrimonio della città, è una società che ha 100 anni di storia. Io sono Presidente da un anno e mezzo, ci sono stati tanti Presidenti prima di me e ce ne saranno tanti dopo di me. Ma il punto è la città. Cosa vuole dallo sport? E fino a questo momento, secondo me, a parte poche iniziative che mi sembrano più delle risposte di facciata, non vedo una vera e propria volontà condivisa da parte di tutti quanti di portare lo sport cittadino ad un livello alto, come una città come Rimini non può non fare. Perché ripeto, è una città che è famosa in tutto il mondo. Io quando sono stato in America e ho portato a riparare il telefonino, ho visto la mail e diceva Rimini Italia, Rimini Italia. In America probabilmente ci sono società che stanno in Serie A, che se vanno all'estero e dicono come ti chiami, non voglio far caso lo dito che dico magari qualche nome e qualcuno si offende, ma veramente Rimini è una città conosciuta in tutto il mondo. E dallo sport secondo me dovrebbe pretendere di più, dovrebbe partire un'iniziativa forte che deve arrivare a tutti, che deve arrivare agli imprenditori, che deve arrivare alla politica, che deve arrivare a tutti quelli che hanno voglia che lo sport arrivi ad alto livello. Se no l'idea di Luciano è bella, ma cambierà che invece di fare l'elemosina io da solo e Luciano da sola faremo un'elemosina collettiva. Ma all'atto pratico non cambia niente secondo me se non c'è una vera e propria volontà che parte dall'alto. Faccio un minimo passo indietro, resto per gli ultimi 10 secondi con Fabrizio De Meis. Tale questa consapevolezza, questo scatto da tirare anche fondi esterni alla città, interessati alla marca Rimini, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, anche di imprenditore che ha a che fare con grandi marchi internazionali, interessati ad un'eccellenza che parta dal marchio Rimini addirittura. La pille del marchio Rimini è enorme, qui purtroppo siamo un pochino penalizzati dall'impiantistica, perché è chiaro che un'azienda importante che, come ha detto l'assessore, arriva allo stadio di Rimini non è molto stimolata di investire, perché purtroppo rispetto per esempio al calcio, al di là poi dell'esigenza di poter convivere e condividere in momenti difficili il calcio, l'atletica. Purtroppo a Rimini, per l'immaginario che ha il prodotto Rimini, non avere uno stadio dedicato al calcio senza la pista all'atletica, senza le barriere. Io ti dico che personalmente mi sono trovato molte volte delle aziende che preferiscono andare qui vicino ad investire per lo stadio, non per la categoria, perché la pille di Rimini è decisamente superiore, però ripeto, il problema secondo me è che oggi non esiste una vera e propria volontà, io l'ho vissuta nel calcio, abbiamo centrato una promozione, abbiamo fatto il record storico da quando esiste il campione di Serie D, abbiamo fatto slogan, gli slogan sono durati 3, 4, 5, 7 giorni e da quel momento in poi nella realtà non si è fatto più niente. Fermo restando che ripeto, mi sento parte in causa perché qualcuno ogni tanto mi ha rimproverato di essere un po' vicino all'amministrazione, come se essere vicino all'amministrazione fosse un peccato, che se dopo 54 anni viene rifatto il campo di calcio vuol dire che loro fanno quello che in 54 anni prima non ha fatto nessuno e questa è sicuramente una cosa positiva, però bisogna capire se vogliamo fermarci in linea, possiamo avere un buon campo, ci possiamo allenare tutti i giorni allo stadio oppure possiamo fare tutti insieme un grande progetto per riportare Rimini in Serie B perché è una piazza che se lo merita e magari anche avere posizioni importanti e questo non lo può fare De Meis da solo, non lo può fare De Meis e Luciano, questo lo deve volere la città, lo deve volere la politica, deve partire un input importante dall'alto dove ti dico che in altre piazze c'è quasi l'obbligo di investire nello sport perché qui a Rimini si fanno i lavori, si fanno le strade, basta guardare, guarda ti do una valutazione semplice, tu prova a vedere i valori economici di tutti gli impegni che si fanno, Luca dice dobbiamo fare le fogne 150 milioni di Euro, c'è da rifare il campo 650 mila Euro, c'è da rifare la pista all'atletica, credo 500 mila Euro e così c'è da fare la piscina, il palazzo dei congressi, ma se una piccola parte di questi investimenti andasse in tutti quelli che fanno le attività sportive avremmo forse delle risorse per fare veramente uno sport ambizioso, io lo dico con rabbia, perché non è possibile che a Rimini, a una città come Rimini viviamo lo sport con questa rassegnazione, sì ma gli imprenditori da sempre non sono vicini, cioè il da sempre va cambiato, ma va cambiato alla radice e la famiglia non va solo coinvolta, ma va aiutata, perché oggi, io dico sempre al nostro responsabile del settore giovanile, quando c'è un ragazzo che non ha la possibilità di pagare, che vedi che la famiglia non può pagare l'iscrizione, lo dobbiamo prendere uguale, è un dovere nostro, tanto noi spenderemo 100 euro per un kit e ci costerà 100 euro in più alla fine dell'anno, ma sono fasce protette, sono bambini che durante tutto l'anno hanno l'opportunità di vivere lo sport e non è possibile che questo non sarebbe, io sono veramente convinto che c'è un'amministrazione che ha delle capacità enormi, che se vuole veramente alzare l'asticella di tutti quanti, compresi noi che dobbiamo far arrivare dei messaggi, che devono essere dei messaggi legati allo sport, non legati solo all'economia, automaticamente poi si possa riversare un'economia che non deve essere, finalmente ho trovato lo sponsor che mi aiuta, ma deve essere un'economia enorme, grande, basta pensare a tutte le associazioni di categoria, basta pensare alla Confindustria, basta pensare a tutti gli appalti che si fanno, basta pensare a quanto è ricca questa società di Rimini, questa città di Rimini per poter poi fare uno sport ad altissimo livello, invece quando sento parlare sembra che parliamo di una città del terzo mondo dove non ci sono i soldi per mangiare, quindi qui trovo un'ipocrisia enorme. E' tanto vero che uno stadio di baseball appena fatto ospitò i campionati mondiali di baseball, un 105 attrezzato in grado di ospitare poche settimane fa il finale di Coppa Italia a livello nazionale, quindi il femminile di pallavolo e con un palazzetto che ricordo in quei giorni si diceva 13 biglietti invenduti, quindi per il grande successo che quella manifestazione nebbe. Siamo arrivati Roberto ormai alla fine, forse facciamo un giro sportivo per concludere sulle ambizioni sportive delle varie discipline, partiamo da Luciano Capicchioni. La nostra ambizione è quella di continuare a vivere, di continuare a investire nei giovani e dai giovani avremo i risultati. L'anno scorso la squadra più giovane del campionato di serie B si è salvata, si è salvata degnamente, verso la finale del campionato, verso la fase finale del campionato si vinceva bene, quindi quella stessa squadra rinforzata di qualche elemento per il 2015-2016 sarà ripresentata al pubblico riminese, ci saranno due o tre rinforzi, non di più, però la squadra sarà in proiezione playoff quest'anno. L'anno scorso ho detto salvezza, quando dico salvezza vorrei dire playoff, quando dico playoff vorrei dire un po' di più, però mettiamo sempre degli obiettivi che sono razionali, anche perché abbiamo una situazione pregressa debitoria che ancora dobbiamo finire di pagare. Lo Stato vuole sempre i suoi soldi, se le società si dimenticano di pagare l'IVA, se si dimenticano di pagare i contributi, c'è qualcuno che li deve pagare, cioè alla fine puoi dilazionare ma devi pagare e quello è ancora un problema che il Rimini Basket ha. Comunque è diventata una cosa diciamo razionale adesso, se qualcuno viene a fare il due diligence di Rimini, dei Rimini Basket, la fa in 5 minuti adesso, quando ho preso i Rimini Basket non si capiva niente, quindi questo è importante anche che le società, non solo la mia, ma anche le altre società abbiano questa sicurezza di non spendere troppo e di non trovarsi nelle stesse condizioni che si trovò il Basket Rimini 3 anni fa. Il Zangheri è maestro in questo, non ha mai avuto questi problemi. A mio rispetto anche perché abbiamo lavorato insieme all'inizio, effettivamente lui ha dato a noi un insegnamento su come dobbiamo gestire le società. Speriamo che anche il Rimini Basket posso portare a voi, anche i cittadini riminesi, anche alla città di Rimini, quelle soddisfazioni che avevate anni fa. Grazie Luciano Capicchioni. Visto che il Presidente Zangheri ci aveva già detto che l'obiettivo è il raggiungimento della finale, poi si vedrà. Chiedo se dopo 42 anni di presidenza del Baseball Rimini c'è ancora un sogno nel cassetto da realizzare? Il sogno è sempre quello di vincere, non c'è niente altro. E' sempre lo stesso? Sempre lo stesso, sempre la stessa cosa. E vincere. E' sempre, il Presidente non si smentisce mai. L'obiettivo è essere presuntuosi, l'obiettivo è ricordarci che siamo i Rimini, l'obiettivo è quello di essere così presuntuosi da riuscire a cambiare la mentalità degli imprenditori, a cercare di toccare le corde della politica perché scenda in campo veramente a favore dello sport. L'obiettivo è, quando si parla di sport, di cercare di uscire di sport sotto il profilo finanziario da questo clima di depressione e che si possa veramente arrivare a uno stravolgimento culturale. Poi, io purtroppo sono un malato, quindi l'obiettivo specifico di quest'anno, non si sa ancora quante saranno le squadre, la squadra che cercheremo di creare è quella che affronta il campionato, se come sembra le partite saranno 34, come se fossero 34 finali. giocare tutte le partite, scusate alla morte, ma in senso sportivo, ovviamente con l'obiettivo di arrivare più in alto possibile, sapendo che per noi è un campionato difficile, perché arriviamo da matricola in un campionato difficilissimo come quello della Lega Pro, sperando che riusciremo a stravolgere un po' gli equilibri di questa città così distante dallo sport e a prenderci quello che la città di Rimini e lo sport di Rimini secondo me si deve prendere. Andiamo qui invece all'estrema destra dove c'è Riviera Volley che obiettivi sportivi guardando l'anno passato non può dire che dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, dobbiamo fare più o meno o meglio rispetto all'anno scorso, perché parte quest'anno. Sì, infatti parte quest'anno, manterremo le squadre che avevano l'anno scorso sia Rimini pallavolo quanto di Zerba, però adesso si chiama tutto Riviera Volley e abbiamo acquisito con questo nuovo progetto di eccellenza giovanile i diritti di questa B1, nei prossimi giorni comunicheremo, come avremo completato a vostra delle giocatrici, chi saranno e chi farà parte di queste squadre. Il nostro obiettivo parte adesso, quindi il nostro obiettivo principale è formare degli atleti e, chi sa, magari nell'arco di due o tre anni poter pensare anche con questo stesso gruppo di arrivare anche più in alto. Il ruolo del delegato Coni questa sera era di introdurre ma anche di ascoltare ciò che ha la base da un punto di vista, diciamo così, le squadre sono di vertice ma producono un grande movimento di base, si sta muovendo. Ecco la sua fotografia finale. Io vorrei un attimo solo rifarmi quello che era stato detto sulla cultura dello sport. La cultura dello sport deve partire dalla scuola, dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria. Io so che sono molte le federazioni che vanno nelle scuole a presentare i loro progetti, i loro progetti che sono quasi sicuramente, forse anche giustamente, sono legati alla federazione che rappresentano. Quindi invece secondo me bisognerebbe fare progetti un po' più aperti dove si cura più, non l'aspetto preparatorio a quella disciplina, ma un aspetto più propedeutico per quello che è l'attività motoria in generale. Questo è il punto che devo fare. Poi sì, qui ci sono sicuramente i vertici e il progetto di mettersi e fare una polisportiva sarebbe veramente un sogno da realizzare, purtroppo sarà sempre solo un sogno. Però sono convinto, specialmente le società di base, le piccole società, se non si mettono in rete, se non si rendono conto che non si può fare la guerra, società della stessa federazione, non si può arrivare niente. Bisogna collaborare assolutamente, mettersi in rete anche fra società di federazioni diverse, così non si hanno sprecchi di energia, sprecchi di denaro e i pochi impianti che ci sono a farli fruttare al massimo. Io mi auguro che questo possa succedere e non so, non giungo altro. La parola finale dell'assessore Brasini per un suo commento finale. Io provo a mettere sul piatto un altro piccolo elemento, mi colpiva alcune cose che diceva Fabrizio De Maes prima, cioè magari anche non considerare tutti allo stesso modo, potrebbe essere un modo per muovere la ruota più in fretta. Può essere nelle politiche della pubblica amministrazione puntare su delle eccellenze, mirare l'attenzione a chi svolge progetti di un certo ridevo dal punto di vista economico, sociale, può essere una chiave di volta? Ma io credo che la cittadina oriminese, penso che se ci sia stata un'amministrazione che ha tenuto aperto la propria porta verso tutti i progetti anche più strani, che facevano più lavorare la parte laterale del cervello per questa città, forse è stata questa. Magari abbiamo sbagliato per molte cose. Quindi non è vero quello che questa amministrazione non fa di tutto per cercare nuove direzioni di marcia. Noi partiamo da un principio che non è che le risorse le trovi per la strada, è un pensiero che ti fa trovare le risorse. E il pensiero non è soltanto il pensiero che in maniera verticale l'amministrazione fa calare sulla città e quello è il diktat. Purtroppo è una cosa molto più complicata. viviamo in anni di demagogia dove si dicono tante cose. Cerchiamo di essere più concreti e più aderenti a quello che è il contesto attuale. Noi siamo disponibili a tenere la porta aperta verso tutti i progetti, verso tutte le situazioni che possono dare uno sbocco a questa città e parlo nello specifico dell'impiantistica sportiva. Il mio ufficio è sempre aperto. Io ho visto entrare i personaggi anche più improbabili a proporre fantomatici stadi all'inglese e poi con contropartite che però arrivavano dalla Turchia ma forse dal Bahrain, forse da stati i più esotici che uno poteva immaginare. Nei fatti, nei fatti tutto questo si è tradotto in un pugno di mosche. Quindi non lo dico con pessimismo. Io sono una persona di natura ottimista, molto ottimista e continuerò a fare di tutto e continuerò a tenere la porta aperta a chiunque presenti i progetti di eccellenza. È chiaro che bisogna partire da una considerazione. Da sportivo dicono, ho sempre pensato una cosa, quando tu giochi, quando sei in una squadra, incitare l'altro a fare del suo meglio non serve a niente. Sapete cosa serve di più al tuo compagno in squadra? Vedere te che fai fatica per l'altro, vedere te che ti impegni. Non c'è bisogno neanche delle parole, non c'è bisogno di niente. Quando tu in una squadra fai il tuo e cerchi di farlo al meglio, quello è già la direzione di marcia. Non hai bisogno di incitare, di urlare, di sgridare, non hai bisogno di far niente. Lo dice poi da questa fase transitoria della nostra vita, da politico che dovrebbe invece parlare tanto. Io credo che forse a volte non siamo bravi neanche a comunicare, però io credo che la cosa migliore sia dare una direzione coi fatti e penso che i punti fondamentali dove possiamo crescere uno sport in questa città sono dare l'esempio di investire per esempio qualcosa finalmente nell'impiantistica sportiva. Sarà un pallino, sarà sicuramente qualcosa di limitato, sarà qualcosa che non sarà sufficiente per coprire tutte le esigenze che abbiamo, ma se arriva qualcuno, qualcosa che presenta un progetto serio e credibile, la nostra porta è sempre e sarà sempre aperta. Bene, grazie a tutti gli ospiti, ma io un grazie lo voglio particolare rivolgere a Roberto Bonfantini che quando gli ho parlato facciamo una serata di questo tipo, si è messo a disposizione lui, le telecamere di Incaro TV con la consueta disponibilità e cortesia, dando una mano. Grazie Roberto, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, forse anche un buon servizio alla televisione, con un contenuto di questa serata di questo tipo. Certamente, è stata una serata ricca di spunti, di riflessione, speriamo non solo per noi che siamo qui, ma anche per chi ci segue da casa, anche per molti imprenditori, per tutti quanti. Grazie a te Cesare. Bene, buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.